E ancora Gaetano ricorda di Slalom città di Altomonte, una vittoria che arriva dopo il testa a testa con Domenico Palumbo spuntata solo per una manciata di secondi. Una manifestazione che ha contato ben 107 piloti giunti da tutto il sud Italia per una gara che è stata ultima di Coppa Italia e valida per i trofei d'Italia Slalom e che per questo ha visto anche la presenza dei vertici della federazione italiana C-Sport. E' stata una gara abbastanza combattuta con il secondo classificato e poi era una gara abbastanza sentita anche perché era trofeo Elia e oggi era la giornata del professore Elia che ringrazio sempre per la macchina che mi ha dato e tutto. E siamo riusciti a vincere quello che volevamo. Siamo riusciti ad abbassare mancio per mancio tra la seconda e la terza che comunque la tensione, la voglia di vincere e tutto il resto qualche brillo c'è stato. Però siamo riusciti comunque a vincere. Siamo soddisfatti perché la C-Sport ci sta incoraggiando ad andare avanti e certamente si stanno creando le giuste sinergie per portarlo al tomonde alla ribalta nazionale più di quello che abbiamo già fatto.